... Ma lo sai che cosa succede ai bambini che fanno i capricci? Cosa? Arriva l'uomo nero. L'uomo nero non esiste, me l'ha detto la maestra. E allora arriva il lupo frattato. Papà, il lupo nero non esiste. Sempre la maestra? Sì. Vorrò farci quattro chiacchiere con questa maestra. Comunque se continui a fare i capricci ti succederà quello che è successo a Pinocchio. E sarà un bel guaio. E chi è Pinocchio? Chi è Pinocchio? Così Geppetto aiutò Pinocchio ad alzarsi. Gli insegnò a stare in piedi e poi gli insegnò anche a camminare. E quello imparò subito e cominciò a correre e a saltare come un pazzo. E scappò via. E' peggissimo papà e poi? E il Geppetto gli gosse dietro per cercare di riacciuffarlo. Ma quel finichino di Pinocchio saltava e correva come una lepre. E con quei piedi di legno faceva più rumori di venti faia di zoccoli di contadini. Piglio! Piglio! Un nuovo Geppetto. Ma la gente vedendo quel purantino di legno che correva, rimaneva incantata a guardarlo. E si metteva a ridere. Madre di Deo, Madre di Deo. Allora un carabiniere sentendo tutto quel trambusto si piantò a gambe larghe in mezzo alla strada per fermarlo. Ma Pinocchio, vedendo da lontano quell'omone che barricava tutta la strada, gli forse sotto le gambe e scusciò via. Allora quello pensò, Mia! Amma dote! A chi appartiene questo purantino? A chi appartiene questo purantino? Il povero Geppetto dice, l'è mio, l'è mio. Allora il carabiniere se lo prese sotto il braccio e se lo portò in prigione. Ma povero Geppetto! Lui non sentiva niente. Vabbè, e poi? Eh, e poi ne successero tante e tante, amore mio. E una storia che a raccontarla non ci si vede. Ma io si credo! Dimmela, dai! No, Madre, adesso è tanto. È una storia tanto complicata. Te la racconterò domani. Ma io la voglio sentire adesso. Tutta la storia? Tutta, tutta. E va bene. Allora mettiamoci comodi perché la notte sarà lunga. Pinocchio, rientrando a casa, incontrò il primo vero amico della sua vita. Ma era troppo grullerello per capirlo. È tutto troppo bello! Mi sto diventando l'artissima che tutto troppo bello! E tu chi sei? Sono il grillo parlante e abito in questa stanza da più di cent'anni. Oggi però questa stanza è mia e se vuoi farmi un vero piacere vatteni subito! Non me ne andrò via di qui. Senza averti detto prima una grande novità. Dai, libero e sbrigati! Puoi! A quei ragazzi che si ripetano i loro genitori non avranno mai bene in questo mondo e prima o poi se ne pentiranno. Grillo, cacchi eroni! Grillo, io non me ne vado a studiare qui. Se i mangi mi toccheranno alle scuole mi toccheranno a studiare e io di studiare perché ho proprio voglia. Preferisco correre dietro le porpalle. Povero grullerello! Ma lo sai che così facendo da grande diventerai un bellissimo sommario e tutti ti piglieranno in giro? Chiesa di grignazzo! Ma perché non vai a lavorare per guadagnarti qualche soldo? Vuoi davvero sapere il perché? Fra tutti i misteri del mondo Ah, ce n'è solo uno che mi piace veramente. E questo messiere sarebbe? Quello di mangiare bene e divertirmi dalla mattina alla sera. Ma tutti quelli che fanno una vita così finiscono l'ospedale o in prigione! Prosto grillaccio! Grillo! Povero binocchio! Mi fai proprio pena! E perché ti faccio pena? Perché hai la testa di legno. Prosto grillaccio! Prosto grillaccio! Grazie! 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 Grazie.